Ciao a tutti bentornati in questo nuovo videovlog video recensione del famoso Garnet Fuctis Coco Fresh capelli grassi e shampoo fruttificante, purifica ed equilibri e agenti purificanti e stati di cetiolo senza secolo e senza poi avere capelli grassi. Allora ho finito finalmente, sì c'ho qualche concetto, vieni ancora, vedete? Allora, come mi sono trovata? Bene, benissimo, eccellente, in confronto gli altri due, di quanti giorni mi dura a me, solo su me, mi dura quattro giorni, quindi al secondo posto dopo il cocoon water, il cocoon water rimane sempre primo in classifica, quindi questo qua è promosso a quattro giorni, su di me ovviamente ripeto solo su di me, poi se vuoi vi do anche di più o di meno, ben venga, oh mi dispiace, quindi, provato, sta riprovato anche in quel periodo, mi sono trovata stra bene, sempre quattro giorni, ovviamente in quel periodo si fanno un po' di più, questo ve l'avevo già letto, quindi veramente, veramente ottimo, quindi è sceso dura quattro giorni su di me, lo ricompro, per adesso no, perché sto provando un altro shampoo, che tra poco vi farò vedere, vedere, no, non adesso ma domani, perché adesso vado a fare un'altra eccezione, e quindi, questo è il prodotto promosso, secondo il classificato con il cocoon water, costato due pallette, o un euro, mi ricordo, forse è un affatto, mi ricordo già più, vabbè, questo video, ci vediamo nel prossimo video, questo è promosso, quindi gli do un voto, quattro su cinque, perché il cocoon water è il cinque su cinque, l'altro è stato bocciato, semi bocciato, perché due o tre giorni, tre, quattro, quattro, l'altro cinque, fa classifica, tre, quattro, cinque, e basta, questo video è tutto, noi ci vediamo a un prossimo video, da Coco Bar Fresh, e tutto, al prossimo video, ciao! Ciao!